Con la tripletta contro il Messina, Andrea Di Grazia si scrive di prepotenza nella storia del Catania. Non sono tanti rossazzurri ad aver inciso contro il Reti il loro nome in un unico match nell'era recente del club etneo. L'ultimo score, valso il pallone a casa nell'era recente, è stata la tripletta di Gonzalo Bergessio, in un Catania-Siena 3-0 nella stagione 2012-2013. Una tripletta che valse tre punti, quella dell'argentino, unica a non parlare la lingua italiana. Infatti, tornando indietro di qualche anno, troviamo una storica tripletta di Giuseppe Mascara contro il Torino, del povero portiere Sereni, che probabilmente ancora conserva incubi del Massimino, con tanto di pantaloncino abbassato da parte di Plasmati, precedentemente Spinesi a far esplodere il Cibali con due triplette in due stagioni consecutive. La prima contro l'Atalanta, gara terminata per 4-1 nella stagione storica della promozione in Serie B dell'Elefante. La seconda, invece, contro la Sampdoria del primo anno di Serie A, sempre alla guida di Pasquale Marino. Tuttavia, non solo Spinesi, autore di due triplette, indietreggiando ancora, ne troviamo un'altra sempre nella stagione della promozione rossa-azzurra, però a firma di Giuseppe Mascara. Un autentico indimenticabile capolavoro contro il Mantua che fece esplodere il Massimino in una festa senza precedenti. Di grazia, dunque, nella storia del Catania insieme a questi illustri nomi, con quello di Lulu Oliveira, autore di una tripletta nel 2002, proprio contro il Messina che valse poi il 3-3 finale. La strada del giovane talentino proveniente dal settore giovanile del Catania sarà dura, certo, e le aspettative indubbiamente alte nei suoi confronti. Domenica, però, un piccolo pezzo della storia del Catania, la scritta con tre gol che hanno mandato in festa i 10.000, di un Massimino orgoglioso di poter urlare il nome di un ragazzo con la catenosità ricamata sulla pelle.